Potete scrivere fuori a chi lo dobbiamo portare, dentro la vostra firma. Allora, ne ho un altro per una donna, messaggio per la numero 11. Ragazzi, donna numero 11. Chi è questa donna fortunata? Ehi! E vai! Ciao! Ma come ti chiami tu? Da dove vieni? Da Verona, tipico accento piemontese. Veneto. Cosa fai nella vita? La Colf. Perfetto. Come vorresti l'uomo ideale? Allora serve un uomo bello, bravo, buono e divertente. E vai! Alla grande! Lo troverai. Vai! Hai addocchiato qualcosa qua stasera? Hai guardato? Ci sei guardato attorno, eh? Bene, bene. Beh, abbiamo dei... Io non me ne intendo di bellezze maschili, quindi non so. Sono belli questi uomini? Cosa dite voi, ragazzi? Sono belli? Non me ne intendo io. Ditelo voi, ditelo voi, ragazzi. Sono belli questi uomini? Sì, eh? Bene, fantastico. Ah, benissimo. Perfetto. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Optimus. Vai. Allora...